Grazie, portiamolo a Gino, e lo facciamo andare in forza, a Gino, a Gino, a Gino... Gino, e lo facciamo andare in forza, a Gino, a Gino, a Gino, a Gino... Gino, e lo facciamo andare in forza... 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 E ragazzi vedete tutti i maschi per quanto è venita ragazza è che tutti questi giornalisti poi non esce niente come al solito ci sarà un banner ci sarà un banner ci siamo noi il banner ce lo fate passare dobbiamo manci di fare qualcosa stiamo? apriamelo va non lascio si non lo fate fuori la mafia 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 Dallo Stato! Fuori la mafia! Dallo Stato! Fuori la mafia! Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti!